Buongiorno studenti! Oggi altro esperimento incredibile con Totò Cornelis von Kartoffel Oggi fare un esperimento molto interessante sull'elettrodinamicità Elettrostatica No, sull'elettricità è bassa Prendere straccio e posizionare su manica di camice di Totò Prendere penna e strofinare forte forte su un braccio Diventare elettrostatica e attirare polistirolo Penna adesso elettrostatica Utilizzo Adesso Totò è scrivere con medesima penna Formula che per me Totò è preso anche un pelo scossa, però fa niente Penna neanche ha persi Scaccia Scaccia Ma cosa fai? Scaccia Dottore avere oggi qui ingredienti per l'esperimento Avere un sacco di led servire a niente perché il totore bastava uno Quattro limoni Pochi soldi rimasti da acquisto di led Chiodi E per ultimo Capfili Il totore non sapere bene come chiamarsi questi qua Usare per far finta di essere intelligente Prendere coltello Prendere limone Creare incisione su ogni limone per poter inserire moneta successivamente Adesso totore inserire monete rimaste all'interno di incisione di limoni Adesso inserire chiodi sempre in limoni Attaccare moneta a chiodo ogni volta diverso Quindi collegare limoni tra di loro Dottore adesso rimasto con un chiodo e una moneta Quindi attaccare ultimi cavi alla fine di limoni Una volta che cavi collegati Adottore mancare solamente tentativo finale di esperimento Dottore prendere con estremità sinistra di cavo elettrico Uno dei miliardi di led che comprati da totore E collegare con mano destra a led Però prima di fare Dottore dovrei spegnere le luci Perché sennò esperimento non vedersi Inserbienti spegnere le luci Grazie inserbienti Adesso totore testare finale di esperimento In high 2 Vai Dottore creato energia Dottore creato energia mediante utilizzo di limoni Se prendere 4 limoni per accendere questa cosina Dottore necessitare di 120.000 limoni per accendere telefono Quindi totore creare power Esperimento riuscito Perché totore ha utilizzato due tipi di metallo diversi Che è metallo di fame Cioè la moneta E zinco Cioè il fiotto Quando metalli inseriti in limone Quindi in soluzione acida Scambiarsi elettroni E generare così corrente elettrica Che accendere lampadina Proprio come in batteria Dottore a concludere video ragazzi Sperate che il video vi sia piaciuto E come al solito iscriversi al canale di Dottore Per altri esperimenti incredibili Ci vediamo All'ultima prossima episodio All'ultima prossima All'ultima prossima